Bella raga dal vostro grande capitano Napoli, benvenuti in questo nuovo video e sempre forza Napoli! Finalmente è arrivata la tanto attesa ufficialità, Osime è un nuovo giocatore del Napoli, grande acquisto, grande colpo del Napoli, Osime passa dal Lille al Napoli per 50 milioni di euro, più 10 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili, quindi 60 milioni, grandissimo acquisto del Napoli, più 5 milioni di euro a stagione, più bonus per il giocatore per cinque anni. È arrivato il tweet presidenziale, Napoli ha comprato questo veramente grande talento, il giocatore è veramente molto molto talentuoso, sono molto contento di questo acquisto, finalmente appunto è arrivata l'ufficialità e la fumata bianca, per i prossimi 5 anni Osime sarà il centravanti della nostra squadra, sono molto fiducioso di questo giocatore, se ne parla veramente molto bene, ho visto dei video, veramente ha un grande talento, un grandissimo fiuto del gol, spetterà a Gattuso, mettono nelle migliori condizioni possibili per cercare di sfruttare al meglio le sue enormi potenzialità che ha questo talento. Lo volevano molte squadre inglesi, come anche Liverpool e anche qualche squadra spagnola molto importante, ma è stato bravissimo il presidente dell'Orientisi, questa volta è giuntoli a riuscire a strapparlo dalla concorrenza prima che ce lo soffiassero qualche altra squadra, ad esempio della Premier, ad esempio come l'Arsenal e come Liverpool. Ditemi cosa ne pensate nei commenti di questo grandissimo colpaccio del Napoli per 60 milioni di euro, 50 più 10, e se siete fiduciosi su questo giocatore può fare bene nella nostra grande Napoli. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Auguro un buon proseguimento di giornata dal vostro grande capitano Napoli, sempre Forza Napoli, benvenuto nella nostra squadra Osimen. Buongiorno a tutti e ci voglio. Grazie a tutti e ci voglio.